Bene, solo qualche rapidissima, non temete, riflessione conclusiva, ma credo che abbiamo fatto un percorso molto importante. Elementi di speranza. Io per mestiere faccio il pessimologo, cioè studio le cose cattive, vedo il male in azione, e però forse proprio per questo probabilmente sono attrezzato a vedere i segnali di reazione, di resipiscenza. Abbiamo fatto un lungo percorso, abbiamo descritto in una prima parte di questo nostro convegno degli errori, ma in realtà tutti quanti questi errori sono riconducibili ad un unico grande errore, quello di cui ha parlato Alexander Solzhenitsyn ad Harvard, l'errore dell'Occidente. L'unico grande errore è quello di aver concepito di poter costruire e vivere in un mondo senza Dio. La scorsa settimana abbiamo assistito a uno straordinario fenomeno di astrofisica, l'eclissi totale del Sole. Ebbene, per un momento ho pensato cosa sarebbe questo mondo senza Sole. Un mondo destinato a morire, ad implodere. In realtà il processo che si è scatenato in Europa e che ha travolto l'intero Occidente è un'enorme eclissi solare storica. Ha eclissato Dio dalla storia. E noi viviamo le conseguenze di questo tremendo, tragico errore. Ma cosa sta morendo? La descrizione di questo percorso morboso è rispetto a chi? Rispetto a cosa? Chi è che sta morendo? Sta morendo una contraffazione dell'Occidente, una contraffazione della civiltà europea. Ma certo non muore, come disse Cantoni, una visione del mondo. Quella visione del mondo che ha fatto grande l'Europa e che ha fatto dell'Occidente un luogo per tanti anni sicuro, di pace. Ebbene signori, se questo Occidente corrotto muore, sta morendo, quella visione culturale non può morire. La patria culturale non può morire, questo scrisse Cantoni qualche tempo fa. E allora qualcuno dice voi volete tornare al passato? Noi vogliamo tornare a ciò che è di eterno nel passato, come ha scritto un grande scrittore russo, Nikolai Bergeyev, nato a Kiev. Noi vogliamo tornare a ciò che è di eterno nel passato, ciò che non muore. Questo è il nostro compito, alziamo lo sguardo. Vi prego, non lasciamoci prendere dall'asfissia delle letture che si accontendo del dettaglio, del particolare. Oggi viviamo un tempo in cui dopo i virologi adesso ci sono i geopolitologi, che stanno lì a spiegarci come andrà il mondo, cosa accadrà. Con disastri preconizzati, siccome imminenti, io non ho più posto in casa per i cornetti, per assenza di Napoletà. Ma tutti a predire catastrofi imminenti, io non lo so e non mi interessa neanche se ci sarà. A me interessa la mia catastrofe personale innanzitutto. E allora noi dobbiamo cercare di allargare il nostro cuore, recuperare questa visione grande. Signore, se c'è una lezione che abbiamo imparato in Allianza Cattolica è non smettere mai di avere presente il quadro grande. Questo ci dà quella pazienza, quella sapienza, saper pesare gli eventi, gli avvenimenti, dare un senso, pesare cioè la qualità del tempo che stiamo vivendo. E darci quella appunto grandezza, quella magnanimitas, di cui parlavano gli antichi, che è requisito indispensabile per poter ricostruire perché altrimenti, signori, in questo contesto che abbiamo descritto, dice ma allora abbiamo scherzato, torniamoci alla casa, coltiviamoci le nostre cose, perché lo dice anche giustamente Giovanni Nostini, è difficile, difficile, tutto sembra congiurare, perché questa eclissi solare non passi. E invece non sappiamo, sappiamo che passerà, lo sappiamo. Non perché abbiamo delle rivelazioni private, vi assicuro, ecco, ma perché c'è stato detto? Da ultima, Fatima. Lo sappiamo. Allora che fare? Perché la domanda classica, su cui si chiudono sempre le occasioni convegnisti, alleanza cattolica, perché noi non siamo un club di intellettuali, altrimenti io non potrei parlare da questo palco. La domanda classica è, usciti di quei, che fare? E allora, in primo luogo, saper classificare e individuare i nemici della ricostruzione. Perché, signori, noi ci piacerebbe non avere i nemici, ma, insomma, ci sono, eh? Eh, nemici esterni, alcuni, come dire, autodichiaratisi come tali, eh? Un nome su tutti, è tutto l'universo islamico, non ve lo devo spiegare. E poi vi sono i nemici interni, quelli che concorrono, appunto, alla demolizione di ciò che rimane di quella visione culturale, quella visione dell'uomo, che è la radice del vero occidente. Continuano lì, e continuano, eh, perché, dice, la civiltà cristiana è finita, certo, è finita, ma, oh, signori, stanno lì ancora a continuare quest'opera di demolizione. Ricordo questa immagine, eh, che ci metteva dinanzi agli occhi, anche un po' raccapricciante, Giovanni Cantoni, di questi vermi brulicanti, eh, questo cadavere, eh, che stanno lì, e, 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 stanno lì, brulicanti, eh, sono aggressivi, fanno male, eh, non è che dice, è morto e stanno lì, no, 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 fanno male, ci fanno male, attenzione, eh? Quindi questo dobbiamo tenere presente, dice, e allora, cioè, la cristiana è finita, e allora adesso, no, 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 signori, e peraltro sono impegnati in un'opera, anche loro, ovviamente velleitaria, radicalmente, strutturalmente, velleitaria di ricostruzione di un mondo nuovo, di un uomo nuovo, la famosa terza gamba, eh, fa male quando cercano di, 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 inserirti la terza gamba, fa un po' male, eh? Poi ci sono, perdonatemi, ecco, amicus plato, sed magis amica veritas, poi ci sono i falsi amici, eh, quelli che ti dicono, eh, che dicono, ma, eh, ormai stai morendo, noi a questo punto contribuiamo, eh, alla tua distruzione, eh? Come scrisse Giovanni Cantoni qualche tempo fa, l'eutanasia non è una terapia, né si è mai sentito che un santo si sia suicidato per arrivare prima in paradiso. Ah, o io dico, io temo, ecco, non lo dico, signori, perdonatemi, tutti, eh, allora, viva Putin, no, signori, anche no, lo dico con grande francese, anche no, eh? Ma per quale ragione? Perché in realtà, proprio quella magnanimitas a cui facevo riferimento, noi intendiamo ricostruire la civiltà cristiana, che è la cosa molto più grande, perdonatemi, del nazionalismo russo, perdonatemi, molto più grande, che anche esso è un frutto di errore, dell'errore di questo Occidente. Stamattina la bravissima Eva Sala diceva, sulla radice dell'autodeterminazione che viene giustamente dal mondo anglosassene, e ha ragione, Eva, ma tutti gli errori vengono dall'Occidente, anche il comunismo viene dall'Occidente, Pol Pot ha studiato alla Sorbona, signori, dice, eh, ma voi siete, eh, ma è così, la storia dice questo. Allora, guardiamo un po' più, allora, e poi, poi, diciamo, ci sono, come dire, io chiamo, perdonatemi, anche qui, non vorrei sembrare riverente, i caschi blu dell'ONU, vedete chi sono? Eh, diciamo, sono alcuni esponenti del mondo cattolico ed ecclesiastico, lo dico senza timore, dove scrivono, magari anche su riviste titolate Civiltà Cattolica, che in realtà è sconveniente parlare di cristianità, eh, quindi bisogna, come dire, astenersi, osservare questo conflitto e in qualche modo auspicare sempre, eternamente, il dialogo, su cosa? Eh, ti stanno ammazzando, dialogo, un momento, un momento, eh, penso prima a difendermi, a difendere le ragioni. E poi, ecco, c'è la categoria che sta più a cuore a noi, che sono quelli che in qualche modo indicava anche Giovanni Orsina, i, chi sono? I reattivi. Signori, viva la reattività, non dico viva la reazione, perché altrimenti qualcuno, ma insomma, viva la reattività. Cioè quelli che incominciano a dire, oh, ma basta. Eh, come diceva anche il professor Orsina, eh, ma no, eh, ma insomma, il maschio può rimanere in cinema, ma no, dice, eh, ma viva è Dio, perché non è così scontato, per le ragioni più varie. Ecco, noi dobbiamo ricercare queste persone, per noi sono, e non pensiamo di fare a queste persone, vi prego, ecco, l'esame, eh, eh, del tasso, eh, diciamo, di ortodossia, vi prego, eh. Ecco, perché sono persone che vengono da questo mondo, vengono da questo mondo rivoluzionato. Già è tanto che hanno aperto mezzo occhietto. Signori, stanno incominciando a rientrare, a ritornare in se stessi. E noi dobbiamo accompagnarli in questo ritorno, eh, questo ritorno. Questo è un altro tema che volevo affrontare con voi, è un tema molto caro, quando, molto caro anche il nostro fondatore, quando parliamo di ricostruzione della civiltà, in realtà non stiamo parlando di un ritorno. Tutta la nostra storia personale e in realtà si gioca su un ritorno, il nostro è quello di un exitus e un reditus. La storia, ah, che bella parola, eh, la storia. Riscopriamo la storia. Oggi, quest'anno, celebriamo vent'anni dalla morte di Marco Tangheroni. Riscopriamo la storia, che è una cosa molto diversa la geopolitica, con tutto il rispetto. La storia ci fa intravedere che cosa? Le linee di forza. La storia, questo fiume, l'immagine di Gonzaga del Nodo, questo fiume che scorre e che mette insieme epoche, ere, e che ci consente appunto di intravedere che cosa? Le linee di forza. Vedere dunque analogie, quello che faceva in qualche modo Vico. E quindi ci fa dire, e ci fa dire che forse siamo dinanzi all'inizio appunto di un'epoca nuova, dove c'è il risveglio di un senso religioso, cioè dove, dopo la barbarie della riflessione, eh, dove c'è ma basta, ma cosa ci stai raccontando? La barbarie, non ti capisco più, non parliamo più la stessa lingua, non ci riferiamo più alle stesse cose, famiglia, vita, nozze, tribunali, insomma, ma è così. Allora, capite, ecco, questo è in qualche modo quello che dobbiamo dare a queste persone. Quando io l'altro giorno, dicevo a qualche amico prima, passando davanti al San Carlo a Napoli, ho visto una lunga fila di persone, fra cui tanti giovani. Sono incuriosito e ho detto, ma, ho detto, vuoi dire che ma anche al San Carlo va a cantare Gio Lì, perché qua ormai a Gio Lì va dappertutto, dico. Ho chiesto, ma che spettacolo danno? No, stiamo in fila per ascoltare una lezione del professore Barbero. Ora, dentro il metodo Barbero, chi no, non ci piace, non ci piace, non è questo il punto, perdonatemi, però questi signori, questi ragazzi erano in fila per ascoltare, che cosa? Una lezione di storia. Oh signori, questa è musica per le nostre orecchie. Riprendere la storia, insegnarla perché, signori, quando si tratta di ricostruire, c'è un esercizio di libertà, perché uno può anche decidere di non ricostruire. La libertà, diceva Gomes Davila, è il motore della storia, non è il fine, ci fanno credere questi signori, è il motore della storia. Che significa che la libertà è il motore della storia? Che la storia, diceva Marco Tangeroni, non è vero che non si fa con i sé, la storia si fa con i sé. La storia è una sequenza di scelte, libere dell'uomo. Abbiamo scendito anche prima, questa mattina, dal professor Blangiardo, se quelle donne non fossero state abortite, oggi forse avremmo un paese diverso. È frutto di scelte, la storia si fa con i sé. E allora insegnare ai nostri giovani che la storia si fa con i sé significa insegnare allora a riprendere il corretto uso della libertà e quindi anche a capire il peso delle scelte e dunque a diventare responsabili. Ovvio, signori, io sono stato educato alla bellezza dell'ovvio, è una scuola, ed è così. E allora dobbiamo ritornare, ritornare a fare queste cose. E oggi ci viene bisogno, perché in questo ritorno noi possiamo in qualche modo accompagnare tutti in questa ascesa. Difficile, difficile. Certamente è una ascesa in cui non dobbiamo mai dimenticare una componente fondamentale. C'è anche qui una tentazione che alligna noi in un certo mondo, per carità a cui personalmente sono anche molto affezionato, di una certa complottismo a dietrologia, per cui e vabbè, ci hanno già deciso, ecco. Ma allora, a parte che, come diceva sempre Giovanni Cantoni, a me, più che qua di Dio, mi basta quello che c'è davanti per esprimere un giudizio. Ma poi torniamo a fare la dietrologia necessitata, di cui pure parlava Marco Tangheroni. Qual è la dietrologia necessitata? Avere un po' di fiducia nella Divina Providenza. quando accade quello che è accaduto, Giovanni Orsina dice che secondo lui non è un evento epocale, cioè la caduta del muro di Berlino. Però signori, io volevo chiedere a Giovanni, infatti questo è un tema di discussione con lui, ma fammi, dimmi chi tra voi politologi e geopolitologi aveva previsto la caduta del muro di Berlino? Nessuno! tranne qualche, diciamo, il lui, tra cui c'era Giovanni Cantoni. Però è questo chi l'ha previsto, chi in qualche modo non esclude dall'orizzonte storico la provvidenza. Allora, torniamo anche a educare, appunto, ad ampliare l'orizzonte alla storia, alla filosofia della storia, cioè le linee portanti, le linee di forza e alla teologia della storia. Signori, vedete, vedete, ma la sai facendo, insomma, troppo, eh, non è astrazione. Perché non è astrazione? Perché più è difficile il compito che ci attende, più sembra che l'assedio sia veramente casa per casa e cosa per cosa, più dobbiamo avere una visione di prospettiva. Altrimenti rimaniamo prigionieri di questa asfissia. Dobbiamo, scusatemi il gergo calcistico, mi piace ancora, non uso il termine ripartenza, un sano contropiede, cioè, diciamo, attaccare. E attaccare in questo modo, attaccare, appunto, culturalmente. Quali sono gli strumenti? È davvero una via conclusione. Primo, certamente, la preghiera. Non trascuriamola. Fondamentale in questo tempo. Tutti i santi di questo tempo hanno, anche i santi dell'ordinario, mi piace ricordare Rosario Livatino, tutti hanno sempre messo al centro la preghiera e la vita di preghiera. Non si va da nessuna parte, se confidiamo soltanto le nostre forze. E poi l'azione. Signori, io sto soltanto una cosa, che se il nostro Signore ci ha messo qui in Occidente, Occidente, come sempre ci ricordava anche Marco D'Angheroni, è la stessa radice anche della parola occasio. Occaso ed occasio. È la nostra occasione. Occasione per meritarci la vita eterna. Quindi siamo qui. Eh, ragazzi. E quindi qui dobbiamo militare. E qui dobbiamo meritare. E poi il sacrificio. Ritornando a Aleksandre Solzhenitsyn, nel discorso di Arva, diceva che una delle cause dello smarrimento, la confusione, il disorientamento dell'Occidente era l'incapacità dell'Occidente di sacrificarsi. Il sacrificio è questo grande assente. Il sacrificio non è soltanto rinuncia, sofferenza. Il sacrificio è una cosa molto più profonda. E fare della propria vita qualcosa di sacro. È una cosa più profonda. Cioè essere nel mondo, ma essere anche capaci di separarsi dal mondo. Questo è il sacro. E allora vivere veramente, costantemente, alla presenza di Dio. E poi perdonatemi anche un altro ingrediente. Questo ce lo aggiungo io personalmente. Ecco, il buon umore. Che, come diceva Papa Benedetto, è la stessa radice di umiltà. Umore e umiltà. E allora, per cortesia, non è che chi si incammina su questa strada difficile, perché è perigliosa. Non è detto da nessuna parte che debba avere sempre quell'atteggiamento cupo, malmostoso. Per cui viene promulgato il documento, no, dignitas infinita, si risponde con un'altra tristizia infinita. Perché poi, cioè, ad ogni cosa bisogna sempre trovare quello che non va. Eh? Non va bene, signori. Ma come potremmo essere attrattivi nei confronti di chi si sta risvegliando e vuole essere attivo se dici, ah, ma io dovrei diventare come quello lì. Ma anche no, signori. Quindi è un po' di buon umore. Quello che si ha, devo dire, anche qui, io sono stato viziato, eh, alla scuola dell'Alleanza Cattolica. È un po' di buon umore. E questo ci accompagnerà nel grande ritorno. Eh? Il grande ritorno. Altro tema, ricordate, caro, no? A Giovanni Cantoni. Cos'è il grande ritorno? A un certo punto è una devozione mariana, no? In modo particolare, non solo, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu questa devozione alla Madonna che doveva accompagnare, appunto, i popoli a ritornare a Dio. Eh? Questo grande. Perché grande ritorno? Perché, appunto, non era soltanto un ritorno personale e individuale, ma un ritorno delle comunità, dei popoli. Bello. E chi descrive questo dice che in quell'epoca iniziò a diffondersi in tutto il mondo, in Italia, in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Belgio, in Canada, persino in Sri Lanka, in Madagascar, anche in Cina, pensate. Eh? E ovviamente anche in quell'occasione ci fu chi, dice, ce l'hai con i preti, non è qui. Eh? Il cardinale Achille Linoa di Lille, il cui aperto sostegno alle cause socialiste gli valse il soprano di Vescovo Rosso, sintetizzò, ecco, diciamo, l'atteggiamento nei confronti di questo grande movimento, senza bandire il gran ritorno della sua diocesi, scrisse, mi reso conto che parla così, una fredda lettera agli organizzatori, dicendo, penso che questo lungo viaggio iniziato a Lourdes nel 1943 e che senza dubbio ha fatto un grande bene, e grazie, non dovrebbe continuare indefinitamente. Eh? Non dovreste trasformarlo in istituzione permanente. È tempo dunque di rientrare senza indugio a Bologna, da dove siete partiti. Ecco, noi non vogliamo rientrare, noi vogliamo ritornare, noi vogliamo ritornare ad una civiltà a misura d'uomo e secondo il piano di Dio.